Buonasera, allora il tempo sta decisamente cambiando, infatti l'anticiclone delle Azzorre si è ritirato in pieno oceano e le correnti di aria fredda provenienti dal nord Europa ci interesseranno già a partire dalla giornata di domani. Andando nel dettaglio, domani mattina avremo ancora qualche annuvolamento, soprattutto in montagna, però il tempo sarà in deciso miglioramento, avremo delle ampie schiarite che ci interesseranno a partire dalle nostre orobie e via via si propagheranno a tutta la valle seriana. Attenzione perché avremo una intensificazione dei venti, questi venti settentrionali che aumenteranno di intensità e apporteranno quel deciso calo delle temperature. Questo calo sarà avvertibile soprattutto in montagna nella giornata di domani, dovremo una diminuzione anche dell'ordine di 3-4 gradi. Lunedì ancora queste correnti settentrionali dovute a una perturbazione sulla Svizzera e sull'Austria determinerà un calo deciso delle temperature, d'altra parte i cieli si presenteranno terzi, quindi cielo blu ma temperature molto fresche, soprattutto al primo mattino, addirittura a clusione ci aspettiamo minime intorno ai 7-8 gradi, sopra lo zero. Tra martedì e mercoledì avremo ancora un cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, il vento si attenuerà e d'altra parte avremo ancora temperature molto basse, soprattutto al primo mattino, non escludiamo che la temperatura sia prossima ai 2-3 gradi sopra lo zero e massime che non supereranno i 16-17 gradi. Poi questa prima ondata di freddo dovrebbe terminare giovedì quando le temperature tenderanno di nuovo ad aumentare di 3-4 gradi e il cielo sarà ancora in prevalenza sereno, poco nuvoloso, quindi nel complesso un'ottima settimana con cieli sereni, però molto molto fresco, soprattutto al primo mattino, mentre durante il giorno a causa dell'insolazione le temperature tenderanno a crescere ma non si porteranno oltre i 16-17 gradi. Allora Matteo dobbiamo recuperare gli abiti invernali? Hai proprio ragione, nei prossimi giorni è in arrivo davvero il cambio stagionale, anche se in ritardo di un mese decisamente le temperature si faranno sentire molto fredde rispetto al periodo, addirittura avremo un calo di 7-8 gradi dalla giornata di oggi a mercoledì, quindi cambio stagionale, cambio dell'abbigliamento e dovremo anche preoccuparci di accendere i riscaldamenti nelle nostre case. Grazie. 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 Grazie.